buongiorno che cosa è successo che hanno sparato davvero gli hanno sparato in giardino e dov'è hanno già portato via il cadavere comunque era lì dove c'è l'ombrellone la signora Asmin sono l'ispettore Derrick ci siamo già sentiti per telefono ah era lei allora mi dica l'assassino cos'è che vuole sapere signora da dove crede che abbia sparato ispettore è probabile che abbia sparato da questo punto visto che è qui che abbiamo trovato l'arma del delitto e i bossoli esplogono avete trovato l'arma sì ma come è arrivato in giardino da quella parte sì perché no sì potrebbe anche darsi sì lei non è sola e quando una persona non è sola non deve aver paura giusto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.